Ma buon salve a tutti, oggi siamo tornati dopo non so quanti anni che non facevo questa roba Real o Fake? Un video che andava di moda forse nel 2012-2013, non lo so Adesso non ricordo precisamente Vabbè che l'ho fatto anche perché non avevo chissà quante idee Grazie Murray per avermi rispolverato questa idea E niente, oggi siamo su questo game Che sicuramente l'avrò già fatto ai tempi Ma è sempre meglio rifare qualcosa Chissà, può essere che nel tempo ho raffinato le mie tecniche di Photoshop Quindi so individuare meglio qual è Real e qual è Photoshop Iniziamo subito, vediamo un po' Allora, prima foto, c'è un'iguana minuscola Potrebbe essere Photoshop Perché è un'iguana così piccola, non l'ho mai vista Però potrebbe essere anche Real Perché non vedo segni di Photoshop Devo controllare bene la sagoma perché è troppo perfetto Ti dico Real Iniziamo alla grande Ok, delle mucche Aspè, aspè, vedo un ritaglio qui, vedo un ritaglio Dico che è fake Ah, c'era l'altra mucca No, io avevo notato di più il contorno della mucca principale Ma vabbè Un falco Sembra abbastanza Real come falco Non vedo segni di Photoshop Io metto Real, non si sa mai Grazie al cazzo Ok, questo non so cos'è Qua è difficile C'è il riflesso sull'acqua Potrebbe essere comunque fake Qua è abbastanza difficile Vada con fake, dai Oh, era Real Attenzione Prima sbagliata Quindi non sto attentissimo Vabbè, l'acqua mi ha ingannato lì Vabbè Allora, qua Secondo me è fake Perché vedo sto pesce ritagliato E non tanto bene Visto che la coda È un po' strana Fake Ma si vedeva Si vedeva Ok Questa immagine Oddio Questa immagine Allora Un aereo così basso Non credo possa volare In teoria Però Un pazzo può averlo fatto Sicuramente Se è fake Cioè hanno preso il fumo L'hanno ritagliato perfettamente Cioè mi sembra abbastanza Real Non si notano dei ritagli Su quell'aereo Oppure hanno preso l'aereo Con bassa qualità Per far sì che non si notassero Queste robe Però non c'è il riflesso nell'acqua Attenzione Il riflesso nell'acqua Frega Quindi è fake E il riflesso nell'acqua Guardate sempre quello Nelle immagini Ok c'è questo Gufo Mi sembra abbastanza reale Come gufo Reale Poi c'è questo Pavone Mi sembra anche questo Abbastanza reale Come pavone Boh Metto reale Era reale Che animali La maggior parte delle volte Sono real Ok vediamo quest'altra immagine Cosa potrebbero aver photoshopato Qui O è un genio il fotografo Che l'ha preso al momento giusto Oppure c'è segno di photoshop Non credo abbiano messo tre volte real Quindi è fake Il gabbiano era fake Dicevo io che c'era qualcosa che non andava in quel gabbiano Era troppo perfetto per essere scattato al momento giusto Ok questo cane Gli occhi sembrano diversi Boh può essere solo la parte nera attorno all'occhio Che va a sembrare diverso Può essere la fusione tra due razze di cane Dai io dico fake Perché gli occhi sembrano diversi Era reale Mannaggia a me Mannaggia a me Può essere anche che ai tempi L'avevo indovinata questa foto Boh cosa c'è di diverso qua Mi sembra abbastanza reale come foto Le persone Chi cacchio l'ha notata Quale persona Chi li ha notate Sti maiali Ma mi sembra abbastanza reale come foto Non credo che abbiano photoshopati i maiali lì dietro Non vedo segni di ritagli Come la luce del sole È abbastanza difficile questa Devo controllare bene Voglio andare preciso Non vorrei farmi ingannare Dalla qualità dell'immagine Boh io dico real Mamma mia Una volta che indovino Ma buh questo è fake dai Si vede proprio che hanno aggiunto effetti Fachissima Ma si vedeva ad occhio nudo Questo mi sembra abbastanza reale Però può essere anche che hanno messo Filtri, fotografo Quelle robe lì La mongolfiera Mi sembra abbastanza reale Qua non è facile Quando si parla di soltanto filtri Non è facilissimo Soprattutto che è fatto in questo modo Però a me mi sembra abbastanza reale Mannaggia Avevo detto io che c'entravano i filtri Ce l'ho detto pure Vabbè questo è reale Ah Almeno l'ultima 11 sono 15 L'unica cosa che mi hanno fregato Sono i filtri Perché Cioè se mi dici reale o falso Cioè i filtri non è che è falso Alla fine Hai solo Messo qualche colore in più Qualcosa in più Non mi sembra falsissimo In teoria Il sito Ha sempre ragione Vai andiamo con il prossimo Real o fake Fake quiz Vediamo se qui riesco a migliorare Oddio qua è più difficile Un melone giallo Boh sembra abbastanza fake Ah ed era fake OFC Può essere vero Perché in questi posti fanno sempre Delle cose del genere Direi real Cioè il web ha insegnato che È sicuro real Una cosa del genere Il web insegna E l'immagine mi si vede sfocatissima Qua che devo vedere Non si vede niente in questa immagine Il sito non ha renderizzato bene l'immagine Mi sa Io la salterei Vabbè Pikachu Quanto cazzo è fake Sembra tipo Un'immagine Compressa Dai super fake Cioè Ma si vede a occhio nudo Un campo da tennis Del genere Sembra troppo futuristico Però può essere anche reale No mi sembra troppo fake Era reale Do cacchio è questo campo da tennis Stupendo Può succedere una Un ragno gigantissimo Può essere vero questo ragno gigantissimo Anche se sembra troppo da film Fantascienza A livelli estremi Se fosse successo realmente Una cosa del genere Bruciato casa sicuro Real Vado a fiducia Era fake Sembrava strano Boh la qualità dell'immagine Inganna Vabbè Google così è reale Credo che in Giappone hanno fatto una pazzia del genere Ovvio Meloni quadrati Credo esistano I meloni di Minecraft Credo esistano Non so dove Mi sembra di averli visti da qualche parte Vabbè che chi ha caricato l'immagine L'ha anche compresso Per mettere ancora più difficoltà Però è reale L'avevo già visto questo Madonna sto cane È un cane super obeso Potrebbe resistere i cani super obesi Secondo me è fake Potrebbe essere anche real L'ho detto io L'ho detto Mi faccio ingannare troppo Allora vediamo bene Aspettami mi sembra fake Perché non vedo riflessi nell'acqua Si dovrebbe notare un po' di riflesso nell'acqua C'è l'acqua Aiuta nei photoshop Aldonald Fast food C'è questa O che non mi convince C'è questa S che non mi convince Ora non so come si chiamasse I tempi McDonald Vado con fake Onestamente E via con l'ultimo iPad 99 Dollari Non credo facciano queste robe Super fake La Apple ha fatto questa roba A 99 dollari Ma la Apple sta bene O è una cosa di wish Può essere anche Vabbè 58 su 100 Anzi dobbiamo dire che un'immagine L'ho saltata perché non si vedeva una ceppa Possiamo dire che è andata abbastanza bene La maggior parte Io indovinate Niente male Dai niente male Io direi di chiudere qui Questo video ovviamente Spero che vi sia piaciuto Spero Ovviamente Un bellissimo like Se volete altri video di questo genere Seguitemi su tutti i social possibili e immaginabili Tanto il nick è sempre quello E mi raccomando seguitemi anche sul canale Viola Che male non fa E noi ci vediamo Alla prossima Mi raccomando E noi ci vediamo